Siamo con la dottoressa Tiziana Nicoletti di Cittadinanza Attiva. I cittadini sono i diretti interessati dell'iniziativa presentata oggi. In una prospettiva regionale, qual è il contributo che i cittadini possono offrire per migliorare l'attuale quadro? Allora, indubbiamente i cittadini quello che possono e devono fare è quello di far sì che questa legge 38 del 2010 venga effettivamente applicata. Perché è una legge che riconosce a tutti noi cittadini il diritto a non soffrire inutilmente. Spesso quando noi ci troviamo all'interno o in rapporto con i professionisti sanitari, non sempre viene riconosciuta questa attenzione al dolore. Quindi noi cittadini più siamo informati, più possiamo fare in modo che la legge venga riconosciuta e applicata. Ricordiamoci che tutti noi abbiamo il diritto a non soffrire inutilmente, indipendentemente dall'età o dalla patologia di cui siamo affetti. Il nostro dolore merita rispetto, deve essere riconosciuto, misurato e gestito. Grazie. 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 Grazie.